ricorreva in quei giorni a gerusalemme la festa della dedicazione era inverno gesù camminava nel tempio nel portico di salomone allora i giudei gli si fecero attorno e gli dicevano fino a quando ci terrai nell'incertezza se tu sei il cristo dillo a noi apertamente gesù rispose loro ve l'ho detto e non credete le opere che io compio nel nome del padre mio queste danno testimonianza di me ma voi non credete perché non fate parte delle mie pecore le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano il padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del padre io e il padre siamo una cosa sola interessante che giovanni localizzi il suo vangelo oggi nel portico di salomone sapete questa è l'unica volta che nei vangeli viene detto che gesù sia stato nel portico di salomone al tempio sì ovviamente diverse volte ma mai prima d'ora si dice che passeggiasse sotto il portico di salomone la scena interessante pensando anche ai filosofi dell'antica grecia ad aristotele ad esempio che insegnava camminando proprio sotto i portici del liceo con i suoi allievi peripatetici la parola peripatetico indicava da una parte le colonne del porticato ma anche l'atto del camminare cioè si insegnava camminando appunto un indizio non banale questo qui siamo nel portico di salomone chi era salomone salomone è stato un grande re vissuto circa 800 anni prima di gesù è succeduto al glorioso re davide e guidò con grande saggezza il popolo di israele a lui si deve la prima costruzione del tempio e nel corso dei secoli quello fu chiamato appunto il tempio di salomone in suo onore ora il tempio dobbiamo dire che ha avuto diverse vicende molto complesse fu distrutto una prima volta da Nabucodonosor il re babilonese nel 586 avanti cristo circa 400 anni dopo la sua costruzione ma il ritorno dall'esilio babilonese già nel 515 avanti cristo venne subito ricostruito poi avvenne che di ritorno dalla spedizione in egitto un certo antioco quarto si fermò a gerusalemme e la saccheggiò la cosa più grave fu però che entrò nel tempio cosa non permessa se non al sommo sacerdote fu una profanazione orribile al pari della prima distruzione del tempio così il tempio fu riconsacrato solennemente nel 164 avanti cristo da giuda maccabeo erode governatore romano poi lo abbellì solennemente nel 19 avanti cristo ed è questo il tempio dove gesù insegnava appunto sotto il colonnato chiamato portico di salomone ma la cosa interessante che a me fa ragionare e speriamo non sragionare è il collegamento tra l'insegnamento di gesù e il luogo dove insegna appunto legato alla figura di salomone salomone fu un re saggio si dice ancora oggi di una soluzione salomonica che rivela saggezza ed equilibrio di giudizio forse fu proprio questo dono che gli valse il diritto di costruire il tempio pensate che il re davide ebbe l'ardire di chiedere a dio di costruire lui il tempio ma dio non accetta le autocandidature tanto meno richieste pretenziose così dio rispose a tono a davide dicendogli ma che ti credi di essere nel chiedermi questo ora sappi che non sarai tu a costruire il tempio ma lo farò io anzi chiederò al prossimo re di farlo e il prossimo re fu appunto il re salomone ora allora prendiamo in mano il vangelo cosa fanno questi giudei aggrediscono gesù e pretendono delle risposte ecco la pretesa la stessa che ha escluso davide dalla realizzazione del tempio chi pretende non ottiene dice il proverbio ed è così con dio non si può pretendere bisogna fidarsi e allora gesù ribadisce voi non credete perché non fate parte delle mie pecore a queste pretese gesù reagisce un po come fece dio con davide non gli concede nulla mentre invece a chi si fida a chi è saggio e umile come salomone concede tutto le mie pecore ascoltano la mia voce io li conosco ed esse mi seguono io do loro la vita eterna e non andranno perduti in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano ecco l'unica relazione che funziona con dio è quella della fiducia allora la vita sarà una sorpresa continua ecco e a proposito di sorprese questa sera non mancata l'appuntamento su youtube sul canale di pregaudio alle 21 in diretta streaming sarà con noi don giacomo pavanello che ogni domenica arricchisce pregaudio con il suo commento al vangelo don giacomo è un amico come tanti della comunità nuovi orizzonti dichiara ammirante non perdete questa occasione e mi raccomando di leggere su email e newsletter da domani online anche sulla app ci sono davvero novità interessanti buona giornata